Enersolar 2011 sono in compagnia di Enrico Pensini, titolare della società Siele, una società italiana che produce inverter. Quali sono le novità dell'azienda? Direi che essenzialmente sul prodotto grosse novità non ce ne sono perché l'evoluzione tecnologica non l'ha ancora permesso. Direi che al di là del fatto di fare macchine contenerizzate quindi per capacità molto grosse, la novità è che abbiamo raddoppiato la capacità produttiva a fronte di 400 MW fatte l'anno scorso, quest'anno potremmo farne 800, però purtroppo il mercato ha cambiato rotta grazie alle leggi non chiare che per alcuni mesi ha bloccato un po' tutti gli investimenti. L'altro aspetto interessante è che stiamo affrontando il mercato nordamericano, quindi stiamo facendo la certificazione UL del prodotto, certificazione che è già iniziata da oltre un anno, però è una certificazione molto seria e quindi comporta veramente dei tempi molto lunghi e stiamo vedendo di fare la fabbrica o a Toronto in Canada o ultimamente è emesso che può essere molto interessante anche produrre direttamente dai Stati Uniti. Siamo stati contattati dai governi locali dell'Arizona per esempio che hanno veramente delle agevolazioni interessanti ma soprattutto delle leggi chiare e durature. E com'è il mercato oltreoceano? La cosa interessante del mercato americano è che è un mercato nuovo, è un mercato che sta nascendo adesso, è chiaro che è molto disimogeneo perché ogni Stato ha una sua regolamentazione, però gli Stati principali come la California per esempio, l'Arizona adesso, diciamo un po' tutto il sud degli Stati Uniti veramente stanno spingendo perché credono molto all'energia rinnovabile. La mia personale sensazione è che comincio a credere anche molto meno alle centrali nucleari dopo quello che è successo in Giappone e questo è positivo. Lei giustamente citava la situazione incerta nel nostro paese, che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro, per lo sviluppo appunto dell'energia alternativa? Ma come direbbero gli americani good question, è una bella domanda, è una bella domanda perché purtroppo politicamente sappiamo com'è la situazione, quindi speriamo che questo governo, che presumo è un governo di tecnici, quindi veda sotto gli aspetti tecnici e non politici le soluzioni. Io spero che quantomeno l'attuale conto energia proceda per la durata che era prevista. Quello che trovo strano è che molta gente parla senza avere cognizione di causa e spara contro il fotovoltaico, per esempio dicendo che costa molto e dimenticandosi che il 40% dell'investimento che fanno le aziende private, con anche i soldi ma non nello Stato, di noi italiani che paghiamo la bolletta della luce, in realtà il 40% ritorna allo Stato sotto forma di tasse e di IVA, il che stiamo aiutando l'Italia anche indirettamente. Per cui green economy per uscire da questo impasse italiano? Direi di sì, noi siamo l'unico paese, uno dei pochi paesi che non abbiamo materie prime. Se non lo facciamo noi, che grazie a Dio abbiamo il sole, non so proprio chi dovrebbe farlo.